Watermark è un documentario della regista canadese Jennifer Bachel e del fotografo anche lui canadese Edward Burtinsky. Non è la prima volta che i due collaborano, l'hanno già fatto molte volte, l'aspetto interessante è che le loro collaborazioni si orientano sempre a un'indagine sulle conseguenze, sugli impatti spesso devastanti delle attività dell'uomo sul nostro pianeta. Nel caso di Watermark, Bachel e Burtinsky si sono concentrati sui vari modi in cui gli umani hanno cercato di usare, abusare, sfruttare e controllare quella che è probabilmente la risorsa più vitale che abbiamo sul nostro pianeta, ovvero l'acqua. È un film che ha necessitato di una fase di ricerca molto lunga, ci sono voluti cinque anni per produrre questo film, che nasce principalmente da un progetto fotografico di Burtinsky, che come vi dicevo all'inizio è un fotografo. Lui ha invitato Bachel, che invece è una regista cinematografica, una regista di documentari, da un lato a documentare il processo di produzione del progetto fotografico e dall'altra di realizzare un film che ne comunicasse le istanze in maniera ancora più spettacolare. Il film quindi ci porta in luoghi diversissimi, dove l'acqua è sempre al centro dell'attenzione. Ci porta in Texas, dove l'acqua viene sfruttata massivamente per l'agricoltura intensiva. Oppure ci porta in città galleggianti della Cina orientale, che vivono sull'acqua perché viene sfruttata per la pescicoltura e l'acquacoltura di alghe e molluschi. Oppure in Grenlandia, dove l'acqua sotto forma di ghiaccio viene usata da degli scienziati per conoscere epoche del nostro pianeta antiche di milioni e milioni di anni. Oppure ancora ci porta nelle concerie del Bangladesh, dove l'acqua inquinata viene rimessa nei corsi d'acqua, dai quali poi le popolazioni tragano il loro sostentamento. Oppure ci porta sulle rive del Gange, dove invece per le popolazioni locali l'acqua è addirittura una divinità. È un film di poche parole? Non vi aspettate il classico documentario in cui c'è una voce narrante che vi spiega quello che state vedendo. Le uniche voci che sentirete saranno quelle di qualche protagonista qui e là che racconterà del proprio rapporto con i corsi d'acqua. Ad esempio un nativo americano che parlerà di quello che l'acqua simboleggiava per i propri antenati. In generale l'invito è quello di abbandonarvi alle immagini, di esplorare davvero questo film con lo sguardo, mantenendo sempre però uno sguardo critico. Perché dietro alla spettacolarità e alla bellezza di queste immagini spesso riprese dall'alto, da un elicottero, si nasconde sempre l'impatto devastante che l'uomo ha sul pianeta.